Terza domanda. Ammettiamo che abbiano lanciato un missile. Come mai, dopo aver sbagliato il tersaglio, lasciano proseguire l'oggetto del bersagente del colpo indisturbato? Il missile è diretto su 19, è diretto come dicono, presumibilmente. Perché quel biblico prosegue indisturbato verso la grada? Perché non hanno abbattuto nessun martirreno? Gli hanno fatto sbagliare il cuoco e ti vudo giù. Il missile non sta in piedi. Certo è un'ipotesi che fa conto. Il sidewinder ha una testata esplosiva di 9,5 kg, è una scoreggia. Ragazzi, può fare molto male a un caccio a lungo 15 metri, ma non tira giù l'aereo di linea di 40-30, non lo tira giù. Tutti atterrati. Afghanistan, Iraq, colpite sidewinder atterrati, scoracchiamo. La firma del sidewinder è visibilissima. Com'è che non ci traccia di questa firma sulla via del 19? L'ha ripescata 95 per cento. Un peso ce l'avete giù. Non c'è traccia. Il sidewinder lascia una firma e non ha una capacità esplosiva tale da buttare giù un'aereo di linea safe line, cioè la 40-50 mila lunghezza. Ecco perché al missile non ci traccia. La bomba, una tesi sostenuta dalla nostra nota in Italia per molti anni, è la bomba naturale di coda. Ma voi avete presente quanto è l'aria di una colè di coda 19? Ripescono il 19 dal fondo del terreno. Il vato e le coperti sono intatti. Ma come? Esplode una bomba naturale che non devasti il vato. Una bomba estrofletta della mia. Andate a Bologna, guardate la sezione popiera. Non c'è traccia di estroflessione. Perché non ha aperto la mia? La povera signora Maria Licenza Calderone, seduta in ultima fila, con la schiena appoggiata alla colè, ripescata a cadavere, sottoposto sia, non ha traccia di esplosivo sulla schiena. Come mai? L'aereo parte con duro di ritardo, santo Dio. Quella bomba sarebbe esplosa con l'aereo fermentista vuoto.